Abbiamo cercato di esporre le foto ma di accompagnarle con una narrazione per comprendere da vicino le vicende che hanno caratterizzato la sua vita, per conoscere da vicino la figura di Frida Kahlo, non solo attraverso i suoi dipinti ma anche attraverso la sua opera d'arte forse più straordinaria che è stata la sua vita. Cento scatti per la maggior parte originali per rendere omaggio ad un'artista amata in tutto il mondo che incarna uno di quei casi in cui arte e biografia si intersecano iscindibilmente rendendo così unico un personaggio. Frida Kahlo, una vita per immagini, è il titolo della mostra che sarà aperta al pubblico al Museo Civico di Sansepolcro dal 16 maggio al 13 ottobre 2021. Una donna speciale che ha percorso il suo tempo con determinazione e forza, dunque è un momento, anche un pensiero in questo momento dove occorre determinazione e forza per ripartire. Ripartiamo insieme, riapre il Museo Civico di Sansepolcro con questa mostra fotografica su Frida Kahlo e riaprendo con il Museo Civico nell'apertura per cinque mesi e avremo questa forza che nella sala delle piecre ci racconterà la sua vita. In questo straordinario album gli scatti sono stati realizzati dal padre durante l'infanzia e la giovinezza della figlia, poi da alcuni dei più grandi fotografi della sua epoca si cerca così di ricostruire le vicende della vita controcorrente dell'artista messicana alla ricerca delle motivazioni che l'hanno trasformata in un'icona femminile a livello internazionale. L'esempio di una donna straordinaria che oggi noi dobbiamo raccogliere e quindi io sono convinto che questa mostra potrà dare a questa città tanti stimoli culturali per continuare un lavoro che stiamo già facendo in città con la Commissione Pari Opportunità, un lavoro che si sofferma innanzitutto proprio sull'idea della donna che viene proposta oggi, che è un'idea omologata, la definizione di una donna così come la vuole il mercato, che possa essere data in pasto al consumismo. Dobbiamo invece noi ripristinare un canone estetico che possa essere sano. La donna è già di per sé un essere straordinario, le peculiarità dell'individuo sono sempre sicuramente oggetto di interesse e di valore estetico, quindi noi dobbiamo rivendicare la libertà innanzitutto delle donne e poi estendere questa riflessione anche al mondo.